E bentornati, bentornati a tutti, benvenuti su GoItalia, andiamo a fare l'ennesimo episodio di Redfall, stiamo giocando su PC, 3080 TTI, e andiamo a fare Tom il sanguinario, vai! Ora che è Tom il sanguinario, ha una schiera di adoratori. Vende salvezza a quei fanatici del campeggio, ma a loro non importa della sofferenza degli altri. Vogliono solo salvare loro stessi. Non è il modo giusto per migliorare il mondo. Connie conosceva il padre di Kildur. Un bravo uomo, gentile. Portare la campanella a casa sua potrebbe funzionare. La suoneremo così forte che la sentirà l'intera isola. Quando Tom il sanguinario la sentirà, non potrà ignorarla come ha sempre fatto. Ok! Andiamo di fast travel, vai! Oh! Buongiorno! Buonanotte! Sì! Non ce ne frega nulla! Vai, vai, andiamo, andiamo, andiamo! Non ce ne frega niente, vai, andiamo! Esatto! Sicuro! Ecco, come dovete andare a casa di Tom il sanguinario, andateci così, con questo, Bergheim, cos'è questo qua? Un M16? Un M16 modificato? Ci andate con un cecco che non so che roba è, perché il gioco non li nomina. Nomi improponibili? Ecco, giusto tanto per questi, per vedere quelli che abbiamo, vedete, apriamo lo zaino, vedete, questo è un EFRET, col silenziatore, insomma, questo qua, però, insomma, vabbè, nomi improponibili. I fucili di precisione semi-automatico, quindi non sapremo mai che fucile è, però più o meno si ispirano a fucili reali. Tranne qualcun altro che tira i paletti, vabbè, ma quelli... E' un altro fucile che spara raggi UB. Ok. Tutto bene, The Last? Tutto bene? Cioè, dove ci ha... dove c'è teletrasportato? Nella cacca? Ok, va a posto, va bene. Cioè, vabbè, il gioco ci vuole male, vabbè, andiamo di qua. Andiamo di qua. Vabbè, ce la facciamo, dai. 300 metri. Non è problema che se passiamo in zone dove non dobbiamo passare, stiamo a killare nemici o a morire male, ma stasera non moriremo. Il gioco lo finisco un po' così. Facciamo due risate, diciamo così, spero. Vabbè, quando arriva la folgore, insomma, ci rompe le palle. Ecco, vedete, il gioco... Il gioco si presenta da solo. Ci dissociamo, ma dice sempre queste cose qua, quindi... Più o meno uguali. Ok, un altro stronzone, vai. Ok, via, via, via. Diciamo che cerco di rendere giochi che sono una palla divertenti. Questo è stato faticoso. Sali, 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 sali. Gioco di Arkane, che ha fatto titoli un po' più... un po' più belli. Tipo Prey, ad esempio. Che non ho mai portato in live e non ho mai finito, quindi sarà magari un altro titolo da... Giusto per dimostrare che Arkane non fa solo cose a cazzo di cane. In questo caso, purtroppo, Arkane, Arkane, ha fatto un po' così. Un po' schifio, però vabbè. Allora, ragazzi. Dobbiamo trovare la casa di Gilder. Dobbiamo trovare la stanza. Penso che sia questa. Cinque metri, tre, due, uno, zero. Dove cacchio stai? Sopra, ragazzi, sopra. Sopra, ma sopra dove? In Morte. Sopra lì? Come si saliamo? Un attimo. Di quale scale? Chiudiamo la porta. I vampiri le attraversano. Eravamo lì, lo... Eh, ok, a posto. Guarda il fail, un attimo. Ci riprendiamo. Vai, di qua. Tu li apri. Ok, va bene. Le volte funzionano. Check, check le porte. Ok. Ok, ancora di qua. Daglie. Ah, occhio. Ragazzi, io ho i teschi, mi pare che ce li ho tutti, però non sono sicuro. Eh, sì. Avevo già sbloccato un'altra missione che non vi ho fatto neanche vedere a nessuno, per decenza, che era orribile. Però abbiamo ucciso un po' di vampiri, un po' OP. Quindi adesso possiamo andare a vedere che succede qua dentro. C'è una cutscene? Non lo so, forse sì? No, ok. The Last, il gioco di vampiri che non ho mai visto. Va bene, va bene. Come mai? Non tanto. Che è successo, Last? Sembra che ero uno di quelli che è rimasto tanto tempo nella mia live The Last of Us. Che fa l'altro, ragazzi? Vi volevo dire, un attimo, attenzione. Vi metterei tutto a schermo, però vabbè. Lasciamo stare. Non sto usando OBS. Quindi ho poche scene, ma va bene così. Se no, il TikTok, la vissuta, sarà rabbia. Nel frattempo ringraziamo Serena Ferro. Ovviamente di Siano Ferro, credo. Non lo so. E, diciamo, andremo a riportare il DLC di The Last of Us, cioè Left Behind, che nel frattempo si è aggiornato parecchio e quindi non dovrebbe più cresciare. Quindi lo dico perché The Last forse, penso, che apprezzerà. Credo e spero. E' un attimo che dobbiamo capire dove siamo. Andiamo di qua. Ok, sarà un bagno di sangue. Anche questo già l'abbiamo visto, almeno io, poi magari voi no, ma io sì. Qui anche nel level design c'è sempre la stessa roba. Attenzione. L'abbiamo fatto fuori o non si può fare fuori? Grazie, grazie. A posto. Ok, non sale perché è un poco... Vabbè. Un po' pesante, non si sa. Che succede? Ok, qua che abbiamo? No, non lo so se lo dobbiamo fare fuori. No, qua c'è l'uscita. Ok, l'uscita. Non dobbiamo prendere l'uscita. Non so se dobbiamo andare in quel buco. A questo punto forse sì. Non ho idea. Forse sì, ragazzi, eh. Non lo so. E mi sa di sì, che qua siamo passati. E quindi credo si aspetta il buco o no. Voglio capire ancora. Forse di là, forse di là. Un attimo, eh. Forse di là, forse di là. Un attimo. No, prendiamolo, ma non ci serve... Cioè, nel senso, lo abbiamo di meglio. Acqua. Non datevi di bere. Un lito e mezzo al giorno. Ma porca, che cacchio devo fare qua? Un coso che è sempre uscito in un altro videogioco. Sarà da Borderlands. Questo non vi ricorda la roba di Borderlands? Vabbè. Cose mie. In realtà, ho anche un altro gioco da portare. Teeny tiny. Teeny tiny. Insomma, un gioco del mondo ambientato di Borderlands. Non lo so. Pure quello. Forse secondo me non piacerà. C'ho tanta di quella roba da portare, ragazzi. Dovrei vivere dieci vite. Ok, vai. No. Fail. Ok. Eh sì, lo so, The Last. Per questo te l'ho detto. Ragazzi, mi fa piacere che mi state tenendo compagnia, se ci siete. E' abituato su Twitch, insomma, così, un po' da solo. Anche perché non portando sempre lo stesso gioco, capite che attenzione. Vai, vai, vai. Vediamo se lo possiamo fare così. Penso proprio di no, però io ci provo lo stesso. Alla catichella. L'immortaggio. Aiuto. Ecco, neanche i boss sono eccezionali. Quindi cerchiamo di farlo fuori il più velocemente possibile. Attenzione. Stiamo morendo male. Attenzione. Sono maledetto. Andiamo in una zona safe. Hai rotto? Andiamo se riusciamo a stancarlo così. Ma perché va lento? Ma maledetto. In tutti i sensi. È rotto. Vai, vai, vai. Attenzione. Il tuo bottino è rotto per sempre. No, vabbè. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tesse. Mi nascondo qua di no. Non posso. Vai, lo prendo in testa che è meglio. Non c'è una schema d'attacco. I boss veramente fanno schifo, ragazzi. Non ci posso fare niente. Perdonatemi. Attenzione. Si deve solo stunnare. Si deve solo stunnare. Basta. Non c'è una routine. Eh, vabbè. Eh, lo so. Manco tu, però. Fra poco manco tu. Fra poco manco tu. Se ci riesco. Attenzione. Vai. Vai, vai. Un altro pochino di qua. Ma... E' sicuro? Ok. Vai, superiore. La mia vita. Vai. Finito, pure questo. Palle. Vai. Patetico muncolo. Ci riprendiamo la roba. I regali. Ci riprendiamo i regali. Ci riprendiamo. E se ne andò a posto così. Ok. Torniamo al centro marittimo. Vai, torna No comment, Francesco, no comment Lo sto finendo un po' così, in maniera irrispettosa In maniera molto dissacrante Forse qualcosa di più di dissacrante Ok, quindi, allora, questa puntata Questa puntata, attenzione Questa puntata di YouTube Finisce qui Le sto dividendo in base alle emissioni Eventualmente qualcuno Vuole vedere le emissioni che non è riuscito a fare Quindi ve le sto portando Così, quindi andremo a fare Nel prossimo episodio YouTube La live qui Su TikTok continua Faremo Uccidi Madame Sussurro Quindi non perdetevi il prossimo episodio su YouTube Con la speranza di riuscire a poi andare avanti Insomma, in altri lidi Grazie a tutti Sì, rimanete voi, rimanete qua Voi che siete in mente questo su TikTok Questo momento su TikTok Non riesco a parlare Rimanete, ok? Alla prossima episodio ragazzi Un saluto da GoItalia Voi rimanete A presto 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 Autore dei sorrisi